Vi siete mai trovate in difficoltà nel fare l'inventario di prese e interruttori? Con l'aiuto di Module Manager diventa tutto più facile. Module Manager è la scelta ideale sia per i professionisti che per i meno esperti. Scegliete semplicemente gli spazi da arredare e poi selezionate i set di prese e interruttori che fanno al caso vostro. Lasciatevi aiutare dall'anteprima digitale tra le diverse combinazioni di colori, motivi e forme per adeguare al meglio il progetto finale ai vostri desideri e alle vostre esigenze. Accanto ad ogni elemento sarà visibile anche il prezzo, in modo da poter allineare facilmente il valore totale con il vostro budget. L'applicazione può essere scaricata sia in versione mobile che in quella desktop e funziona perfettamente anche senza alcun accesso ad Internet. Alla fine non vi resterà che salvare gli elementi e condividerli con il vostro installatore o rivenditore. Scaricate subito l'app per iniziare a comporre le vostre prese e interruttori su misura. Tem. Module Manager.